Una trovata del poco originale. Aveva scioccato il mondo del calcio inventando i tifosi di cartone, ideando un megatelone per tappezzare la gradinata d'arrocco preclusa ai tifosi anche ai tempi della B. Ora deve vedersela con la giustizia per quelli che la stampa ha battezzato i falsi prosciutti a Marchio San Daniele. C'è ben poco da sorridere però, l'ex presidente della Triestina Stefano Fantinell è finito in arresto per le ipotesi di reato di contraffazione di indicazioni geografiche, frode nell'esercizio del commercio e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e agli arresti domiciliari assieme ad altri sette imprenditori quale componente del CDA di Gruppo Carni Friulane, dal quale si era dimesso lo scorso maggio. Va detto peraltro che il 47enne friulano si era giocato i benefici della condizionale a seguito dell'inchiesta aperta nel 2012 dal PM Federico Frezza per false fatturazioni e false compravendite di giocatori all'epoca in cui presiedeva la società rossola bardata. Un lustro esatto a partire dal 2006, battezzato scongiurando in extremi su un secondo fallimento dell'Unione, staccando un assegno di 3 milioni di euro. Prosciutto e Cabernet sono sempre stati sui marchi di fabbrica prodotti dalle aziende di famiglia, affettati e tracannati senza pietà nelle conviviali anche ai tempi dell'Alabarda, ma questa volta il Rebe King rischia di diventare quanto mai indigesto. Della sua avventura a Trieste si ricordano tre salvezze al Cardiopalma, un ottavo posto e soprattutto l'affare Pablo Granoce e il Potriglio, l'uruguayano pescato dal nulla che consegnò 24 reti nella prima stagione in B, diventando poi una gemma di mercato acquistata a peso d'oro dal Chievo. L'ultimo capitolo della sua vicenda legata alla Triestina si consumò nel 2014, quando patteggiò una pena di un anno e quattro mesi per bancarotta dopo aver versato 600.000 euro per l'inchiesta della Procura sulla sua gestione dell'Alabarda.